Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi parlerò di un prodotto che serve a chi ha cani o gatti in casa. Si tratta, come vedete nelle immagini, di una dosatrice. E in particolare si tratta di una dosatrice con lama in ceramica e una parte in ceramica e una parte in acciaio e titanio. Prima di parlarvi di questo prodotto vi invito a iscrivervi al canale e a selezionare la campanellina per ricevere le notifiche sui vari aggiornamenti e sulle varie pubblicazioni dei miei video. Allora, questo prodotto, eccolo qua, adesso andremo ad aprire, è specifico per cani e gatti. Adesso andremo a vedere il contenuto manuale. Come sempre, vediamo se c'è in italiano, ma non credo. Ok, infatti non c'è. Un invito per provare questo prodotto. Ok, andiamo a vedere. Allora, cavetto di ricarica USB, quindi non è presente un alimentatore. un pettine per regolare la lunghezza a 3 mm, un pettine per regolarlo a 6 mm, una forbice, un'altra forbice, un'altra forbice con pettine per lo sfoltimento. sembra anche abbastanza buona. Io posseggo già un prodotto simile e devo dire che va abbastanza bene. classico pettine, altro pettine per regolare il taglio, questa volta di 12 mm, altro pettine da 9 mm, boccettino d'olio per lubrificare ogni tanto le parti meccaniche, lima per le unghie, tronchesino per il taglio delle unghie per i gatti e per i cani. Ok, adesso andiamo a aprire, ecco qua, anche spazzolina o pennantino, dipende da come lo volete chiamare, per la pulizia. Eccolo qua. A differenza di quello che posseggo già, questo qua ha lo sportellino per sostituire la batteria quando sarà esausta. Quello che io adesso invece non si può sostituire, quindi meglio questo qua che ha la possibilità di sostituire la batteria. Allora, vediamo se riusciamo a chiuderlo. Ok. Cussante di accensione. Manettino per regolare la lunghezza che va da 0,8 a 2 mm senza nessun pettine davanti. Adesso lo accendo. Non so se sentite il rumore, magari metto il microfono vicino, comunque è abbastanza silenzioso. Non dà fastidio agli animali. Così si apre per pulire la lama. Consiglio, per inserirlo dovete spostare tutto alla massima lunghezza, se no fate fatica a inserirlo. Io lo dico perché non riuscivo neanche a inserirlo dentro. E infatti il motivo era questo qua. Quindi, lama davanti in ceramica, posteriore in acciaio. Tutto il resto è in plastica. Allora, io devo dire, l'ho già provato, rispetto all'altro modello che ho, il taglio è praticamente simile, anche perché sono utilizzati nella stessa tecnologia, stesse lame, ceramica e acciaio. Quindi, non ho ancora provato per l'autonomia, per vedere se a livello di autonomia sono simili, anche perché vediamo la batteria, vediamo se c'è scritto quant'è la batteria. Una batteria, dice che è una batteria a litio da 18.650 mAh, mi sembra un po' troppo, però la prendo come buona dalle caratteristiche del costruttore. Il costruttore dice sempre che ha bisogno di, vediamo se mette a fuoco la camera, 3-4 ore per la ricarica, non vuole mettere a fuoco, e ve lo leggo io, va bene. 3-4 ore per la ricarica e 3-4 ore di utilizzo, ha un peso di 595 grammi. Ok, se avete domande su questo prodotto o volete altre informazioni, scrivetemi sempre nei commenti e vi darò tutte le informazioni che chiedete. Come sempre, la mia recensione completa sarà pubblicata sul mio blog che, ripeto, è www.fabrifoto.it e iscrivetevi anche sul mio blog per ricevere le notifiche dei nuovi articoli e delle nuove recensioni che vado a pubblicare. Vi ricordo che le mie prove sono assolutamente veritiere, quindi non vado a... almeno, ma al momento non ho tutte queste sponsorizzazioni, per cui non ho problema a dirlo, perché il canale è ancora in crescita. E quindi, niente, dopo questo video qua vi farò un altro video, dove vi presento una planetaria dedicatrice, anzi, una dedicatrice. e quindi, aspettate che pubblicherò anche l'altro video. Come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per ricevere le notifiche. Con questo vi saluto, ciao al prossimo video! Con questo vi saluto, ciao al prossimo video!